La nuova centrale operativa della Polizia Locale Pedemontana aprirà i battenti lunedì 11 settembre. A partire da tale data, coloro che avranno necessità di accedere agli sportelli del comando dovranno pertanto recarsi in via Donella Rossi 1 a Felino e non più nella vecchia sede di via Cerreto. Nessuna variazione dell'orario di apertura invece per gli sportelli decentrati nei cinque comuni dell'Unione. La nuova centrale operativa ospiterà gli uffici amministrativi, l'ufficio verbali e la sala di controllo del sistema di videosorveglianza che conta oltre 100 telecamere distribuite lungo le principali arterie del territorio dell'ente sovracomunale. Un edificio moderno ed ecosostenibile in cui troveranno posto anche gli uffici, le attrezzature della protezione civile, il magazzino e l'archivio del comune di Felino. In caso di emergenza poi è lì che verrà allestito il centro operativo misto per tutto il territorio dell'Unione. La nuova sede della Polizia Locale e della Protezione Civile verrà inaugurata ufficialmente venerdì 29 settembre alle ore 10 alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e delle autorità locali. In questi giorni si sta ultimando il trasloco e la Polizia pedemontana si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi. Per arrivare nella sede di via Rossi è necessario percorrere la tangenziale pedemontana dal casale in direzione San Michele Tiorre, uscire in strada a Roma e imboccare la prima laterale a destra.